La festa interdiocesana della famiglia quest'anno si sposta alla cooperativa Tre Ponti, una festa che coinvolge le diocesi di Fano, Pesaro e Urbino e una festa che si dividerà essenzialmente in tre momenti. Ci sarà il momento di preghiera, il momento di condivisione e il momento di spettacolo. E ora andiamo a vedere i protagonisti di questa serata. Ci introduciamo a questa solenne celebrazione. Innanzitutto, quando si parla di famiglia parliamo delle nostre storie personali. Parlevo sempre di altri, ma delle nostre storie di origine. Siamo figli dentro una famiglia che ci ha generato, accudito, ci ha fatto sbagliare, ci ha perdonato. Quello che siamo nasce dalle nostre radici. Secondo pensiero A tutta la pastorale familiare allargata Perché sia umile nel progettare, perché sia concreta Ma anche perché sia misericordiosa Non dobbiamo illuderci che tutti la pensano come noi, che tutti hanno storie come noi Non siamo i giudici del mondo, siamo coloro che accompagnano E cercano di accompagnare con un po' di esempio, di gioia di esserci Ma anche accudire le difficoltà Terzo modo di introdurre è il mio campo fondamentale La grazia presuppone sempre la natura Le virtù umane nella famiglia sono fondanti Non pensate che appendendo il crocifisso, le madonne, le madonne in senso non offensivo Dentro le case la famiglia vada bene La famiglia ha bisogno di struttura, di personalità, di equilibrio, di capacità, di tenuta La grazia presuppone sempre la natura Eccellenza, questa sera la festa della famiglia Lei in questi anni di ministero episcopale ha sempre avuto un'attenzione particolare alle famiglie Le famiglie che hanno i figli in cielo Ha condiviso con le famiglie dei momenti di spensieratezza in montagna Qual è il messaggio che vuole dare questa sera alle famiglie della nostra diocesi Ma anche delle altre diocesi che sono qui? Il primo messaggio è che noi siamo figli di famiglia Quindi per tutto è la gratitudine Quello che siamo è perché siamo stati abbracciati, amati Coccolati, educati Questo è il primo messaggio Il secondo è l'incoraggiare tutte le famiglie il lato umano Curare molto il lato umano La fede ha bisogno prima della natura Altrimenti si costruiscono meccanismi psicologici non veritieri La grazia presuppone la natura Sempre E quindi curare anche le virtù umane La relazione, la maturità, la misericordia anche umana E la capacità di raccontarsi La grazia poi va oltre Ma senza questo si è disgraziata L'altro messaggio è un'attenzione particolare in questi tempi sia ad altri tipi di famiglia O a chi famiglia l'ha cominciata e poi è andata male per motivi che noi non conosciamo Un atteggiamento di rispetto, di incoraggiamento Direi anche di benevolenza Perché la gente che comunque si sente amata anche in situazioni complesse Fa meno danni dopo E riesce anche, pur nella diversità di famiglie nuove Ad accudire i figli Avere dignità per il marito che aveva o la moglie che aveva Questo credo che oggi sia un tema molto, molto delicato Molto Più del previsto Fino, ecco, alle situazioni anche dei separati A coltivare molto il rispetto di chi ha generato i figli La madre dei figli è sempre venerata E il padre dei figli deve essere sempre venerata Ogni figlio ha il diritto E noi abbiamo il dovere che i propri genitori Quelli che l'hanno generato abbiano dignità Comunque sia Oltre questo noi faremo del male irreparabile a intere generazioni Tutti gli anni a Pasqua lei ha fatto una lettera indirizzata alle famiglie Con un tema particolare Se dovesse dare un tema alla serata di questa sera, quale sarebbe? Beh, mi prendi sorpreso Ma il tema, vorrei dire Famiglia è bello E chi ce l'ha Può nelle difficoltà Che sappia narrare la bellezza Oggi Non i temi teologici costruiscono le relazioni Ma le relazioni Io dico sempre uno slogan La teologia parla del pane La pastorale spezza il pane La teologia della famiglia è importante Ma se non ci sono famiglie che in qualche modo Si realizzano e dicono che vale la pena La teologia non tocca il cuore La chiesa è bellissima Perché la chiesa è appunto una grande famiglia Perché siamo tutti figli di un solo padre e tutti fratelli E quindi grazie per aver donato a tutti noi Vescovi, diaconi, sacerdoti, religiosi, religiosi Cioè siamo davvero un piccolo Come dire, modellino di chiesa Di questa comunione grande E questa festa della famiglia Allora non è solo la festa della famiglia Ma è la festa della chiesa famiglia E quindi mi auguro Dove sono i responsabili del pastore familiare Mi auguro che ogni anno Si cresca sempre di più Portiamo avanti questa tradizione bella E dove possiamo ritrovarci come famiglia Così Grazie a tutti Grazie Monsignor Sandro Salvucci Arcivescovo di Pesaro Urbino Allora questa festa è interdiocesana della famiglia L'interdiocesanità è il valore aggiunto Si va verso una sinodalità anche a livello locale? Certamente Si sente il bisogno di rafforzare questo vincolo Questo legame tra le chiese vicine Sorelle della metropolia di Pesaro Fanno parte dell'unica provincia ecclesiastica Pesaro, Urbino e Fano C'è già una bella tradizione che io ho trovato Di lavoro comune, di cammino insieme E credo che c'è tanto desiderio Il terreno direi che è preparato Per continuare in questa direzione E a crescere sempre di più Una collaborazione in vista delle sfide Che ci pone la pastorale di questi tempi In questo mondo così cambiato Velocemente cambiato Una pastorale più vicina alle persone Nel senso più proiettata Alla dimensione proprio della missione Quindi credo che ci sono C'è spazio per un lavoro comune Che sicuramente crescerà Anche nei prossimi anni Grazie anche all'amicizia E al rapporto anche molto fraterno Con il Vescovo di Fano Sia il Vescovo che sta ora per salutare Questa diocesi dopo 16 anni di servizio Sia con il nuovo Vescovo Che per me a sorpresa È una persona a me molto cara Siamo amici Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi Da oltre 30 anni Quindi sicuramente lavoreremo insieme Con tutto il resto ovviamente della Chiesa I sacerdoti, diaconi e popolo di Dio Federico, ieri il Vescovo All'inaugurazione del centro parrocchiale di Lucrezia Ha detto che poi Quello che è stato il suo motto episcopale di questi anni Non abbiate paura Qual è il vostro messaggio Alle famiglie di oggi Voi come diciamo Membri della commissione famiglia Qual è il vostro messaggio? Beh sicuramente Ci accodiamo a quello che ha detto il Vescovo Anche noi diciamo di non avere paura Il mondo sta cambiando Ma la Chiesa sta cambiando Ancora più velocemente del mondo Per cui bisogna avere una visione Prospettica ma anche profetica Più che altro Per cui siamo contenti Che insieme Cercheremo di Creare una bella relazione Per appunto non avere paura E progettare un futuro nuovo e bello Quali sono le difficoltà Che vivono le famiglie di oggi? Le difficoltà sono quelle Della complessità della vita Del lavoro, dei figli Quindi tenere insieme tutto quanto E nello stesso tempo Avere una prospettiva bella davanti Perché tutte queste cose A volte creano appesantimento E rendono la famiglia Un anello debole Più che invece Più che una risorsa Per la società La banca di credito cooperativo di Fano È da sempre vicina al territorio Alle famiglie Non poteva mancare questa sera Una festa dedicata proprio alla famiglia Certamente Come banca di credito cooperativo Siamo nati in una parrocchia Di conseguenza vicini al territorio Ai più bisognosi La storia nasce proprio Nelle periferie Dell'area contadina Del nostro territorio Siamo vicini alle famiglie Vogliamo bene a tutte le parrocchie Perché le stiamo aiutando tutte Nelle ristrutturazioni e quant'altro Non potevamo non esserci Questa sera Per un saluto Al nostro Vescovo Quali sono Luciano I valori che incarna La banca di credito cooperativa E che si possono Diciamo mettere in comune Con i valori della famiglia di oggi Solidarietà Soprattutto sostegno Vicinanza ai più bisognosi Non tralasciamo Diciamo così Di aiutare Chi ci chiede Un aiuto anche economico E economico Cino Questa sera la cooperativa Tre Ponti Ospita un evento importante Addirittura un evento interdiocesano Come quello Della festa della famiglia Qual è il valore aggiunto Di questa festa Per la cooperativa Tre Ponti? Naturalmente Quando si è posta La domanda Di dire La location Può essere Tre Ponti Per questo evento provinciale Naturalmente Naturalmente Noi Qui siamo orgogliosi Di quello che succede Nella città Ma anche nell'entraterra Che molte attività Si svolgono a Fano Per noi è un onore Stasera ospitare Il nostro vescovo Tre Sarti Che diciamo Può essere l'ultima uscita Che noi conosciamo In questi 20 anni Non mi ricordo 15-20 anni Di suo vescoile Naturalmente Questo location Lui viene spesso Per noi è stato un onore A essere Co-organizzatori Di questo evento Gino Ti chiedo un messaggio Da lasciare Al vescovo Armando Che appunto Fra poco Lascerà il posto A Monsignor Andreozzi Vede Io lo chiamo Tutti i gerghi Lo chiamo Armando Perché a me mi piace Quei lei sopra Tutti quegli aggettivi Per me Io Gesù si rende conto Che la paura Può Può nascere Io non vado a toccare I temi biblici Perché Già li conoscete bene Però Le cose di Dio Non bisogna nascondere Bisogna Quello pastorale Perciò Armando Ci lascia Però Ci siamo dati Degli appuntamenti Perché delle volte Noi qui organizziamo Qualche serata Così Tra amici Naturalmente Lui Non mancherà Non è un addio Ma un arrivederci Un arrivederci Però lui ha detto Guarda che io sto a fermo Non sto a fare Il problema della distanza Non esiste Perché andare a fermo A prendere Don Armando Che è stato Secondo me Per la città Un personaggio Eccezionale Naturalmente Però Come diceva Gli anni passano Per tutti Passano anche per lui Perciò È un arrivederci Sicuramente Bene Benvenuti a tutti Fano Come state Bene Come si dice Fanesi 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 Grande Allora Sarò più breve Del vescovo State tranquilli Bene 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 Vado di questa Per forza Ci sta Sua eccellenza Se è andato Va bene Va bene Va bene Allora Allora No no Sono più lungo Del vescovo Bene 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 Allora Io Allora Io Mi sono appassionato Dalle storie dei santi E nella mia vita Insomma L'ho studiata Abbastanza E La cordina E ho scoperto Una cosa Che L'opinione Che si ha Sui santi È cambiata Tante volte Nel corso Della storia Giovanni Questa sera Porti in scena Anche i santi Anni brufoli Cioè Che messaggio Ci vuoi dare Che anche i santi Hanno qualche difettuccio Beh Non è che solo Non è questione Solo di difetti Ma è quasi È proprio questione Di fisiologia Cioè Anche i santi Hanno Bisogni E funzioni Fisiologiche Come il pulso I brufoli Eccetera Cioè Sono esattamente Come noi Sono Sono persone Che hanno Esattamente I bisogni I desideri E le aspirazioni Che abbiamo noi La differenza Che c'è Fra un santo E una persona Qualunque È che il santo Semplicemente Dice sì Dice sì A questa grande Chiamata Che sente da Dio A cui siamo Chiamati tutti Insomma La comicità Riesce a rendere Dei temi Anche Diciamo Di riflessione Un po' Leggeri In questo caso Quanto è importante La comicità Per far passare Questi messaggi Ma io non lo so Se è importante La comicità Anzi la comicità Certamente Non è importante È semplicemente Il mio mezzo Che ho Il mio strumento Che utilizzo È quello che so fare io Qualcun altro Utilizza il dramma Non è una questione Di importanza Né di stratagemma O di scorciatoia È quello che Sono gli strumenti Di cui uno ha Disposizione L'opinione Che si ha Del santo padre Del nostro pontefice Il nostro pontefice In carica Papa Francesco È molto interessante L'indice di gradimento Del nostro pontefice In carica Nel corso degli anni Del pontificato All'inizio È appena arrivato Sul soglio di Pietro Appena si è affacciato Dal balcone Ha fatto buonasera A tutti Lui sì Che è un grande papa Ha detto buonasera Un mito Grande Sì Yeah Tu ti ha detto Lui sì Che è un grande papa Tutti Proprio tutti No Poi tu Pure gli altri Anticlericali Tutti No Non come quell'altro Non come quello Che c'era prima Quello tedesco Antipatico Quello con le scarpette rosse Ratzinger Poverino Stavo sul cazzo a tutti Poverino Perché lui Perché un po' era tedesco Un po' Cioè Non era bravo a comunicare C'è una pippa proprio Cioè qualunque cosa dicesse Tutti a dire Che è una nazista Francesco dice le stesse cose Perché il cattolicesimo È questo Da duemila anni Però le dice Però le dice un po' più Tango Un po' più rumba Tutti a dire Ah lui sì che è un grande papa Non come quell'altro Lui sì che è un grande papa Non come quell'altro Lui sì che è un grande papa Non come quell'altro Lui sì che è un grande papa Primo È proprio Questa festa da diocesana È diventata di metropolia Quindi ovviamente Abbraccia anche L'arcidiocesi di Urbino Quali sono i valori Che dovrebbe incarnare La famiglia di oggi? Beh sicuramente I valori Che ci hanno insegnato I nostri nonni I nostri genitori Quindi quelli Incentrati sulla figura di Cristo Nella misura in cui Ecco essere compassionevoli E amare il prossimo Che cosa fa Diciamo Venire Fa arrivare Le famiglie Qui a questa festa Qual è l'input? Secondo me È il fatto appunto Di incontrarsi Di fare comunità E di Stringersi In una fratellanza Che è molto molto sentita All'interno Ecco di queste nostre Diocesi Quanto sono importanti Questi appuntamenti Anche per rinsaldare L'amicizia Fra famiglie Importantissimi Credo Perché al di là Di quello che si fa Nelle parrocchie Tanto si fa Delle varie diocesi Io penso Ecco che questi incontri Poi ecco Facciano in modo Che tutte le diocesi Si possano Ancora di più Ecco conoscere E quindi incontrare Sì Io ho delle amicizie In Vaticano Uno di questi È Sua eccellenza No Non è vero Non è vero Però C'è delle amicizie Molto potenti Che mi hanno detto Una cosa Che io però Non posso dire Io non la posso Rivelare Questa cosa Perché se no Finisco nelle prigioni Vaticane E allora Io la dico a tutti Che non vedo l'ora Di finire in una prigione Vaticana Come saranno Ste prigioni Vaticane Che figata La torre di Mago Merlino In cima I corvi Bellissimo Io la dico a tutti Sta storia Nella speranza Di venire arrestato Ma dal Vaticano Non mi si fila nessuno Non ho mai ricevuto Le visite di una guardia Svizzera Mai Per cui ho il sospetto Che sia una grambogliata E invece no È tutto vero Quasi tutto Una parte una buiata Una parte Vabbè Raccontiamolo Allora Musica D'ambientazione Vaticana Maurizio Picchiolo La batteria Marco Mariotti Alla chitarra La musica Non c'entrava niente Era solo per fargli Sfoca un pochetto Allora Maria Elde Se dovessi definire Con tre aggettivi La famiglia di oggi In crisi Bella Una potenzialità Una potenzialità Direi questo In crisi perché Le potenzialità quali sono? La potenzialità è quella di Essere la chiesa domestica Quella che è in grado di consegnare Di far vivere l'amore E donare se stessa Ed è un bene questo che Educa E' un bene che Molto prezioso Critica perché E' in crisi Forse perché La società In questo momento La mette un pochino In difficoltà Ecco Quindi La sua identità però E' importante E deve Manifestarsi Fortemente Perché la società Ha bisogno Della famiglia E qual è l'importanza Di questi momenti Aggregativi Come quello di questa sera Interdiocesano peraltro Beh la comunione E' sempre un momento Bello Perché Educa di per se stesso E quando la comunione Riesce Che c'è uno spirito Di armonia Qui c'è lo spirito Del Signore E quindi C'è la presenza Di Dio Quindi è importante Questi momenti comunitari Proprio per vivere La comunione E imparare A essere una comunità Dalla festa Interdiocesana Della famiglia Treponti e tutto Noi vi lasciamo Alla programmazione Di Fano TV Noi vi lasciamo